Anche quest'anno Civitella del Tronto è stata cornice della Due Giorni Culturale e Politica, un convegno organizzato dalla Fondazione Cantiere Abruzzo Italia dal titolo Generazione di Valori. Noi abbiamo inteso ribadire che per una gioventù che si deve formare bisogna dare dei valori di riferimento e allora abbiamo concentrato questi due giorni, come il nostro solito rivolto prevalentemente ai giovani, ma non solo ai giovani, nel sottolineare quali erano i valori per i quali una serie di generazioni si è impegnata alla fine dello scorso secolo, pensiamo agli anni caldi della politica italiana negli anni 60, 70 e 80, con i movimenti giovanili al punto di partito e poi a quando i giovani italiani andarono a dare la vita per continuare a costruire l'unità nazionale. La giornata di venerdì scorso è stata dedicata soprattutto ai giovani al fine di trasmettere i valori e le tradizioni culturali che hanno caratterizzato la formazione delle generazioni passate. Questa mattina i lavori sono stati accompagnati da un'estemporanea di pittura a cura del professor Massimo Pasqualone, nel frattempo la parte convegnistica si è occupata della Prima Guerra Mondiale. Facciamo uno spaccato di storia contemporanea, di quella storia per cui tanti italiani, 600.000 italiani morirono durante la Prima Guerra Mondiale, ma che fu anche il motivo di grande orgoglio nazionale e primo vero momento in cui tutto il popolo italiano si sentì partecipi di una grande patria che era l'Italia.